81.000 euro in banconote di vario taglio, un tesoretto in contanti, quello che la Guardia di Finanza di Prato ha sequestrato a un giovane imprenditore cinese che è stato denunciato per riciclaggio. L'uomo è stato fermato alla guida della sua auto nei pressi di uno dei suoi bar. Nel bagagliaio è stata trovata una busta contenente i soldi, 81.000 euro tondi tondi. L'imprenditore ha detto che quel denaro proveniva dalle attività commerciali di famiglia, tutte nel settore della ristorazione, ed era destinato a pagare gli stipendi dei dipendenti. Una giustificazione che non ha convinto i finanzieri intenzionati ad appurare la provenienza dell'ingente somma facendo un controllo nel bar. Dalle immagini delle telecamere di sorveglianza installate nel locale è emerso che poco prima di essere fermato il cinese aveva ricevuto la busta piena di soldi da una donna, anche lei cinese, al momento non ancora identificata. Non solo, un riscontro sui conti delle attività gestite dall'uomo e dai suoi familiari ha rilevato bilanci appena positivi e in qualche caso negativi. Attività insomma con uno stato di salute tale da non giustificare il possesso di tutti quei soldi incontanti. Il sequestro è stato convalidato dalla procura.